Il 6 aprile allo stadio Tommaso Fattori alle 18 in scena il grande rugby internazionale con l'incontro Italia-Inghilterra delle selezioni Under-19. Un appuntamento inserito nelle iniziative del 6 aprile messe in campo dal comune con tante collaborazioni, in un fattore tirato a lucido. Uno sport come il rugby ben si incarna nei valori da diffondere. Sarà una giornata che vedrà il sold out allo stadio Fattori Tempio del Rugby e ci saranno a margine anche dei tornei giovanili. Io credo che la memoria e le ricorrenze si possano anche celebrare con eventi che raccontano la vita, la vita gioiosa, quella che lo sport è in grado di restituire. Torna il rugby internazionale, uno scenario importante, una bella vetrina per la città, una bellissima vetrina per lo stadio Fattori e per il rugby italiano. Perché comunque ricordiamo sempre, mi piace sempre ricordarlo, che il Fattori è uno degli stati veramente più importanti e belli a livello proprio nazionale. Avere questa opportunità per la città è un segnale importante, tra l'altro come dicevi tu nel anniversario del terremoto del 6 aprile del 2009. Questo è stato proprio una scelta fatta dalla federazione per dare anche un segnale e un messaggio positivo in una data per la città nefasta. Il match tra Azzurrini e Parietà d'Oltremani che è inserito nel calendario dei test match 2023-2024 delle nazionali Under-18 e Under-19 andando ad arricchire il panorama di esperienze internazionali funzionali allo sviluppo degli atleti coinvolti nel percorso formativo federale attraverso una più vasta esposizione al palcoscenico dei test match per l'Aquila davvero una grandissima occasione. Decisamente, ringrazio la federazione italiana rugby, Marzio Innocenti, Giorgio Morelli, il vicepresidente Vicario e tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento di questa giornata e di questo importante appuntamento. A margine ci sono, a margine non direi tanto a margine, ci sono altri due tornei di rugby giovanile che porteranno nella città dell'Aquila circa mille ragazzi. Credo sia un bellissimo segnale. Se mi consenti un'ultima cosa, vorrei dedicare questa giornata a Mauro Zaffiri perché credo che meriti un riconoscimento del genere e credo che veramente sarebbe stato contento di vedere nella sua città una due giorni davvero così importante.